GIOCO DELL'ANNO Tuo padre è pezzo di merda Questo è proprio il nome di un virus Incredibile, incredibilus Poi faccio una strage Allora signori, ciao Oggi abbiamo un bellissimo contenuto, ovvero Minecraft 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 Non giochiamo a Minecraft, ma bensì ai cloni di Minecraft Allora abbiamo minigames Wow, cioè proprio a posto di Minecraft minigame Play minigame No ragazzi, cioè incredibile Ha 5 minigame, voi uno non lo vedete Però Falling Into Season 2 Whether you like it or not Ok, questo è molto bello come nome Monument Success Buds Off E Curtis Airlines Vabbè, vediamo che cazzo è No vabbè, Fall Guys Ma è l'adattamento Minecraft di caduta libera di Jerry Scotti Quindi io sto cadendo No, non sto cadendo No, perché le nuvole arrivano dall'alto Quindi sto volando verso l'alto Scusate ragazzi, adesso diventerò uno youtuber per bambini di Minecraft E inizierò a fare... No ragazzi Ci sta cadendo l'ossidiana Quella che di solito si crea con l'acqua e la lava No, troppo fichissimo Aspetta la bedrock Oddio, l'ho presa in testa Cavolo, questa non la rompe nemmeno un piccone di diamante Ma la mia capoccia sì Ma allora sto cadendo Ma... No, allora c'è qualche problema Da ora in poi il canale si chiamerà Cap, Kazu e Poldo Personaggi In che senso? Ovviamente io sceglierò Dryrect Per provare il minigioco Whether you like it or not Cosa devo fare? Pokémon Ok, ok Devo battere lo Swideros Su cammi la minchia Questa è la legge Ok, a tre cuori Devo mangiare Mi uccide? Tuo padre è pezzo di merda Proviamo Monumental Success È letteralmente Pac-Man Immaginate la possibilità in cui io divento uno streamer effettivo di Pac-Man Tutte le mie streamer saranno su Pac-Man e basta Pac-Man Comfort Streamer Se va a destra sono fottuto Ok, godo Il vostro streamer di Pac-Man è un fallito Sta perdendo tutti i Minecraft minigames Budzov Cos'è Budzov? Cosa devo fare? Ah, devo prendere le api Zoom Oh, però è... Cioè, è bello Poveri api Poldo No, ragazzi Oh, ce l'ho fatta Ho preso tutte le api Godo Allora, adesso proviamo Curtis Airline C'è Lion? Cazzo, c'è Lion Spariamo Lion lì per spazio Così? Ok Ci siamo Madonna, madonna mia Incredibile, incredibilus Ok, sto già per superare i 400 metri così dal nulla Ok, siamo sui 600 Su un money Su un money incredibile 750 Ok Supriamo i 1000 Supriamo i 1000 Dai, 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 dai Bello, bello. Cioè, onestamente figo. Onestamente, onestamente figo. Passiamo avanti col prossimo gioco, ovvero Build World. Allora, Seed. Ovviamente, Seed 4316. Abbiamo delle settings. View Distance, ma mettiamola al massimo. Play. No. No, se premiesce, ti esce dal gioco. Non ci credo. La chiede che questo gioco abbia qualche problema. Dettato dal fatto che i caricamenti sono eternamente lunghi. Minchia, se premiesce, esci dal gioco. Settings. Ah, vuoi vedere che è la View Distance? Sì, era la View Distance. Non ha i suoni questo. Oh mio Dio, se premiesce, si spegne. Porca troia. Ci riprovo l'ultima volta, eh. Ok. Non c'è animazione quando spacchi i blocchi, ma lo rimuovi. Però, in compenso, posso piazzare Bedrock. Certi salti potrebbero essere gestiti meglio. Sembrano i salti con scivolata di Gary's Mod. Come si apre l'inventario? Ho solo questi blocchi. Farò una casa. Non c'è la texture dei blocchi di legno. Perché li mettete? Ma nemmeno di questa, cioè. Ma non c'è di nessun blocco. Scam totale, ragazzi. Scam totale. Vediamo che cosa c'è a bordo mappa. Però c'è pure la generazione delle caverne fatta così. Carina. X-Ray ci sta. Virus probabile. Contenuto poco, purtroppo. Es che stavolta ho usato intenzionalmente. Allora, andiamo su Build. Questo si chiama proprio... Ah no, si chiama Parkour Fight. Ok, forse Parkour Fight non è un clone di Minecraft. Non so perché l'ho scaricato. Come ci si picchia? Oh, però questo... Ho un maiale. Come si spara? No, ragazzi. Il gioco dell'anno. Posso dire che questo non è male. Certo, le mie orecchie stanno morendo, letteralmente. Cos'è quest'arma? Perdonatemi. È un bazooka, letteralmente. Va bene, bello questo Parkour Fight. Credo che i suoni siano fatti da un tizio a caso. Perché erano davvero, davvero tanto umani come suono. Pretty cool Minecraft. Cioè, già pretty cool Minecraft fa ridere così. Carica mondo. Poi Minecraft YouTube Edition. Che vuol dire? Il... Il DPI è altissimo. Ma poi non c'è... Non puoi rompere le... Io non riesco a muovere la visuale. Come faccio ad uccidere quel coso? Ma poi fai il verso del suono di Minecraft. Il verso del suono di Minecraft. No, fai il verso del drago di Minecraft. Non mi veniva. Non riesco più a percepire. Peccato che la sensibilità è così alta, ragazzi. No, ragazzi. Io devo craftare una pistola. Boh, andiamo a cercare i diamanti. Questo che è? Oro? Ok. Questo invece è... Ah, così. Ok, ragazzi. Dieci diamanti. Ho la pistola. Ok, Dream. Vediamo adesso nella tua mainhound come fai a scappare dalla mia spada. Minecraft è improvvisamente diventato Palermo. Vabbè. È stato più facile del previsto? Il problema è che... Boh, cioè, è molto limitato. Cioè, mi posso fare la casetta. E poi, cioè, non è... Clone di Minecraft fino a un certo punto. Tipo un'alpha, una beta di Minecraft. Capito, ragazzi? È così che si prende l'oro. Cavegame.exe. Ma questo è letteralmente Minecraft. È Minecraft con una quantità di bloom sui blocchi. No, ragazzi, ma... Incredibile. L'ho appena creato. Si chiama Gborgs. Vabbè, niente. Quindi, raga, questo clone è già finito. È il primer e il più bello, a quanto pare. Cioè, minigamer è incredibile. Andiamo con Minecraft Clone. Questo, questo non hanno proprio, appunto, la decenza di cambiare nome. L'hanno chiamato solamente Minecraft Clone. Progress. Quanto cazzo ci sta a caricarsi? Ed è fottutamente decentrato. Ok, ci può stare tutto sto tempo. Ora, tipo, è il progress del virus che sta entrando nel mio computer e non è il gioco che si sta avviando. Cioè, lui ci ha messo così tanto... Così tanto per generarmi questo mondo. Cioè, ha caricato un chunk. No. Minecraft.exe. Il nome è geniale. Sono un fucking... No, se premi esco ti esce dal gioco. Floppy Minecraft. Not Minecraft, don't shoot me, please. Questo è proprio il nome di un virus. Poggers. Bad Minecraft. Settings. Start with gun. Adesso ragioniamo. Perché si muove così? No, ragazzi, ma incredibile... Cioè, i movimenti sono pazzeschi. Gioco dell'anno. Questa è la guardia forestale nel sud Italia. Salve, abbiamo un problema di deforestazione. Dobbiamo intervenire deforestando questi alberi uccisi dal pinolo rosso. Pinolo si chiamava. Dal punteruolo, no dal pinolo. È il pinolo rosso. Adesso li faccio accumulare e poi faccio una strage. Are you fucking ready? Ma poi i cadaveri che restano qua. Puoi pure sparare al cadavere. Ok, molto bello però. Purtroppo anche questo. Limitato, limitato nella sua interezza di gameplay. Andiamo avanti con... Minecraft 2. Allora, questo è letteralmente Minecraft di Lion. Però non ha effetti sonori. Non ha alcun tipo di... Di niente. Cioè, zero. Non ha nemmeno l'inventario. Non ha nessun tasto. No, se premi eschi ti esce dal gioco. Allora, andiamo avanti con... Hana Hana Minecraft. Questo è un nome incredibile. Cos'è? Cosa cazzo è? Cos'è? Io sono abbastanza sicuro che questo clone sia stato fatto con Roblox. Posso posizionare là sotto. Veramente, veramente molto bello. Peccato che... Non posso fare nient'altro se non... Questo. Minecraft built... No, regà. I BTS li sono sciolti. Godopi. Papà. Oh mio Dio, ho capito. Population 2 su 10. Cioè, tu che il personaggio gli dico vai qua a fare questo. Lui va a prender... Ah, uno Steve 50... Ah... E appena arriva a tot legno... Si crea un altro Steve? Eh, ma dovrei avere abbastanza legno. Ho 100 di legno adesso. E infatti, ecco. Creiamo un bordello di Steve. Oh, mi attaccano, mi attaccano. Oh, no, no, no. E niente, mi hanno distrutto. Bella, ragazzi. I sticoloni di Minecraft sono stati belli, quindi... Dimmi no. Ciao.